6 e 30 puntuali, Simona buongiorno, Paolo buongiorno, questa mattina visiteremo il foro di Augusto, Giussi buongiorno, allora andiamo verso i fori imperiali, Giussi dice bellissimo, buongiorno Katia buongiorno, stiamo attraversando tutti i fori, vedete il Colosseo ce lo lasciamo alle spalle, siamo quasi arrivati ragazzi, Rosaria buongiorno, Emanuela buongiorno, è tutto gratis, com'era la vita in quegli anni, Adesso facciamo la guida formale, al centro del lato orientale del foro di Augusto si ergeva il Tempio di Marte, la sua costruzione si deve a Ottavio Augusto, Rosario dice ottima la stabilizzazione video, sempre alla ricerca dell'eccellenza, grande Rosario, aspetta fammi vedere, così mi dà un voto, guardate che panoramica, è anche vero che a volte non è tanto la macchina che usi, l'apparecchio che usi, ma è quello che inquadra, quindi ho qui il gioco facile, e quindi ragazzi se passate di qui a qualsiasi ora, anche la notte, secondo me soprattutto la notte, Rosario mi ha dato un 10, Elena buongiorno, vi sedete in questa tribuna e qui si sentono soltanto i gabbiani, Katia dice Roma città eterna stupenda, va bene io con queste immagini vi saluto, con il foro di Augusto alle mie spalle, ci vediamo domani sempre 6.30 puntuali, ciao a tutti, buona giornata!